Buonasera, scusate il leggero ritardo ma abbiamo avuto una serie di spostamenti e adesso siamo pronti per partire con questa serata che è una serata prologo doverosa a quello che è il simposio che terremo domani come Fondazione John Eccles al Monte Verità sul tema filosofia, medicina e cinema. Ci sembra doveroso che questo simposio possa anche poter beneficiare di un film che entra nel merito di questo tema, in sostanza che possa parlare di medicina e di cinema e sicuramente anche di filosofia come sfondo. Domani il simposio ha due sessioni principali, sicuramente avete già visto nel Depliant, nelle informazioni, una prima sessione che è medicina e cinema e una seconda sessione che è filosofia e cinema. Abbiamo degli ospiti illustri che non sto a elencare per evitare di allungare questa entrata in materia e siete sicuramente tutti invitati a approfittare di questo momento che ho il piacere e l'onore di presentare come Fondazione John Eccles. Questa serata che vede questo film, lo scafandro e la farfalla, è stata possibile realizzarla grazie anche alla preziosa collaborazione del CISA, qui saluto il direttore del CISA, il signor Marco Poloni, e della Palacinema SA e davvero ringrazio per questa collaborazione che è un inizio, non è solo un inizio, abbiamo già collaborato in precedenza, ma sicuramente ci permette di aprire a nuove forme di sensibilizzazione, di avvicinamento, quelli che sono anche gli audiovisivi e quelle che sono le finalità della nostra fondazione legata alle neuroscienze. Ecco, non rubo altro tempo a questo momento, avremo un momento adesso di passare la parola a Marco Poloni per la presentazione del filmato, un'anticipazione di questo filmato, e in coda, considerando comunque il filmato è piuttosto lungo, un'ora e quaranta se non erro lì attorno, avremo un attimo, una parentesi che cercheremo di mantenere molto leggera di discussione, di considerazioni sul film, nello spirito che è proprio quello che caratterizza le nostre neuro-humanities, quindi legate a un aspetto più filosofico, un aspetto più legato alla cinematografia, e ci doveva essere anche l'apporto del nostro presidente, il professor Claudio Bassetti, ma una serie di circostanti ha fatto sì che non ci potesse raggiungere questa sera, ci raggiungerà domani, e comunque nel simposio saranno dibattute queste questioni, quindi il rapporto, ripartiremo da questo filmato per poi andare a discutere di cinema, filosofia e medicina. Allora, non rubo altro tempo a questa entrata in materia e cedo e ringrazio Marco Poloni, cedo la parola per la presentazione del film. Grazie Marco. Grazie a te Michele, quindi sono Marco Poloni, dirigo il CISA, il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive, la scuola di cinema di Locarno, che ha sede in questo palazzo, ed è una delle sei scuole di cinema svizzere. Prima di tutto mi scuso per la mia voce, sono preso un po' da una bronchite, quindi non sono al massimo del volume espressivo. Perché abbiamo scelto questo film? Perché al di là della storia commovente che racconta la vicenda di Jean-Dominique Boby, un editore alla rivista di moda francese Elle, colpito da un ictus nel 1995, c'è anche uno sfondo concettuale che ha a che vedere col linguaggio, col cervello e anche con la struttura stessa del cinema. e non voglio parlarne troppo perché ne parlerò domani mattina alla mia conferenza. Ciò che vorrei dire del film è che comincia con un'impostazione, un dispositivo filmico molto rischioso che pochi hanno sfruttato nel cinema classico, che è il point of view cinema, cioè un cinema visto dal punto di vista di un personaggio, che è una cosa che non si fa mai in cinema. La cinepresa, quindi, che è il proxy del narratore, è sempre un osservatore più o meno neutro che si trova in uno spazio assieme a dei personaggi, ma non diventa mai un personaggio, perché crea molta angoscia. Nello spettatore, il film comincia così, quando l'ho visto la prima volta, adesso l'ho rivisto per la seconda volta, non mi ricordavo che poi il film si evolve, quindi dicevo, oddio, due ore di first person point of view, molto difficile, però poi il film si apre, ha una struttura narrativa più classica e diventa anche molto commovente quando entrano nuovi personaggi, la moglie di Bobby, i suoi collaboratori, l'infermiere, i medici. Non voglio dire troppo, perché sennò diventa un po' un spoiler per ciò che dirò domani, però dicendo una banalità, il cinema è l'arte che più si avvicina alla forma mentis del cervello, al funzionamento del cervello, quindi per noi è stato anche abbastanza delicato individuare cinque film che ci sembrino giusti rispetto allo stato delle conoscenze mediche, però vi do uno spoiler un po' forse divertente, come vedrete Bobby comunica con l'esterno attraverso il battito dell'occhio sinistro, che è la sola cosa che gli è rimasta di mobile nel suo corpo, e se vi ricordate, un po' caricaturale, però se vi ricordate il personaggio di Hector Salamanca in Breaking Bad, che forse avreste tutti visti, visto la grande serie americana, è un mafioso seduto su una sedia a rotelle che comunica e dà le sue istruzioni attraverso un campanello. L'idea è stata presa da questo film, mi sembra, molto chiaramente. Ecco, con questo chiudo. Avete avuto uno scoop, perché Marco ha parlato di cinque film, nel senso che stiamo organizzando una rassegna cinemamente con questo taglio, nel senso che cerchiamo di guardare dei film e poi, dopo il film, portare lo sguardo da discipline diverse, dalla filosofia alla medicina, alle neuroscienze in generale e la cinematografia, chiaramente. Quindi stiamo lavorando su questo, lo stiamo preparando e si prospetta in modo felice, quindi come ottima collaborazione tra chi ho citato prima e ci sono altri partner che probabilmente citeremo domani mattina presentando questo. Quindi, detto questo, penso buona visione, buon film, buona serata. Esattamente, buona visione, grazie. Ecco, non è mia pretesa commentare un film, perché non è il mio ambito, il mio campo. La mia professione mi porta invece a condividere esperienze di vita e storia di vita e questo film mi ha ricordato due persone che ho avuto il piacere di conoscere con delle condizioni leggermente, non solo leggermente, ma molto diverse, con delle analogie con questa situazione, ma che sono completamente diverse, perché queste due persone sono nate, se vogliamo, prigioniere del loro corpo, come è stato indicato, mentre in questa circostanza qualcuno che diventa successivamente prigioniero del suo corpo, comunque, come diceva, un'altra cosa che funziona, l'immaginario, la memoria, un'esperienza di vita totalmente diversa. Nel caso delle due persone che ho conosciuto, una è ticinese, Pier Mario Fenaroli, ha scritto anche un libro proprio con questo titolo, Prigioniero del mio corpo, e io l'ho conosciuto già adolescente, penso che abbia due o tre anni meno di me, in sostanza, un poco più, ma quello che mi colpiva, beh, la sua narrazione, effettivamente come in questo caso, lui a un certo punto nella sua storia dice io sono un uomo normale, e credo che questo film permette di capire la normalità della persona racchiusa in questo corpo che non risponde. Questa è la prima cosa che mi ha toccato, mi ha ricordato. Un'altra persona così è Claudio Imprudente, che è il redattore capo, il fondatore stesso della rivista H Parlante, che funziona nella comunicazione allo stesso modo. Una cosa che lui diceva, è la persona che ha creato all'inizio il concetto di diversamente abile, che ha detto adesso non userei più, è stato un argomento in un determinato momento per far capire che è una persona detta disabile, una persona con disabilità, è ricca per forza anche per conseguenza di abilità, abbiamo visto le abilità presenti qui. Claudio Imprudente aggiunge una cosa che mi aveva colpito dall'incontro con Claudio, era il fatto che lui parlava di complicità, cioè come la persona si manifesta grazie alla complicità di un'altra persona, perché altrimenti non potrebbe uscire da questa condizione. Quindi va oltre al fatto di essere una persona che si mette a disposizione dell'altro. C'è qualcosa in più, non è semplicemente un traduttore, non è semplicemente un'interfaccia a questa persona, ma è un qualcuno che condivide, che diventa complice in questa relazione della persona con disabilità al mondo. Queste erano due cose principali che mi ricordavano. la terza, ma questa è una preoccupazione anche professionale, è il rapporto con l'ambiente subito così come viene descritto grazie al televisore. A quel televisore acceso o spento a piacimento di chi passa, poi dimenticato col segnale oppure lasciato lì la domenica come qualcosa che deve riempire. Immaginatevi qualcuno con le capacità e le caratteristiche del nostro protagonista dover subire in fondo la scelta altrui o qualcosa. Quindi si potrebbe adesso entrare nell'universo della comunicazione alternativa aumentativa dove al di là della possibilità di esprimersi in presenza di qualcuno ci dovrebbero poter essere e si potrebbero sviluppare anche delle competenze per segnalare il disturbo per far smettere delle stimolazioni perché vale per la televisione ma varrebbe anche per altre cose ma entriamo già nello specifico e non vorrei rubare tempo né alle persone qui presenti né ai colleghi presenti. Saluto Wenda Bernegger membra della John Eccles Foundation del Consiglio di Fondazione e anche Presidente della Società Ticinese di Filosofia forse ho detto sbagliato ma il senso è sostanza ma come è giusto scusa ah l'ho detto la Società Filosofica della Svizzera Italiana non so chi di voi vuole iniziare magari Wenda vuole dire qualcosa un commento prego grazie ma allora magari mi aggancio a quello che stavi dicendo Michele sulle vocazioni di altre persone che ci vengono in mente in condizioni simili perché proprio di recente ho saputo da un'amica che a Vienna lavora come terapeuta psicoterapeuta e anche una clown in ospedale che stanno per produrre una conferenza di una persona austriaca d'origine con una storia molto simile a Bobbi perché è stata una esperta di storia del design a New York quindi una figura molto anche in un mondo per certi versi simile a quello di Bobbi che è stata vittima di una Locked In Syndrome dalla quale adesso sta comunque riuscendo a produrre un libro una conferenza che sarà prodotta con la sua voce per cui è vero che questo film ci parla anche di un tempo in cui la realtà aumentata non c'erano ancora le possibilità che oggi abbiamo e questo ci lascia sperare che anche la tecnica sia veramente di supporto per ridurre il sentimento di cattività nel quale il protagonista ci ha fatto sentire appunto di essere in modo così agghiacciante comunque io quando ho accettato di dire qualcosa dopo questo film è perché in realtà da tanti anni l'utilizzo nell'ambito della formazione anche io lavoro alla SUPSI insegno etica e trovo che sia forse uno dei film più potenti per restituirci proprio come dicevi Marco all'inizio la prospettiva dall'interno in un modo che il libro stesso non sa fare perché è così potente nel portarci nella prospettiva del protagonista con questa visione anche parziale per cui le prime due scene in cui lui si rende conto di quella che è la sua condizione e gli viene data la diagnosi sono magistrali per capire tutti gli errori che si fanno abitualmente nella comunicazione medico-paziente e come in realtà la comprensione della propria condizione avviene non attraverso quello che il medico dice ma attraverso in questo caso la percezione del fatto che non lo sta udendo e anche le diverse modalità con cui le varie figure professionali si atteggiano ci fanno capire molto di quello che è una cura davvero diciamo rispettosa un modo di prendersi cura che è rispettoso e anche però quanto investimento questo comporti e mi colpisce sempre la sproporzione appunto di tempo investito rispetto a quello che poi si riesce in questo caso a produrre come discorso e è un è un grande insegnamento sull'immenso investimento che la buona cura richiede tempo tempo come durata ma è un film che ci parla anche tanto dell'irreversibilità del tempo di un tempo che nell'ultime scene in cui si rivede si ha l'impressione che la caduta diciamo c'è tutto questo tema del poter capovolgere l'irreversibile che in fondo è il sogno di tutto il percorso tutti i percorsi terapeutici che partono da una condizione così di trauma o di diagnosi molto brutte hanno questa speranza di reversibilità e poi è un film che anche penso che parlerai tu Marco molto di come in realtà è proprio un film sul film ma è un film che ci dice molto sulla visione sul trovo molto affascinante come il tema del dello specchio si è messo in gioco in fondo è tutto un lavoro di racconto della propria storia per sentirsi riraccontare questa scrittura che dà luogo a una lettura da parte dell'altro Adriana Cavarero diceva il paradosso di Ulisse noi ci raccontiamo per sentirci riraccontare dall'altro questo sforzo immenso per raccontarsi e sentirsi poi riletti in ritorno e in questo gioco di specchi che è indispensabile per lui per riappropriarsi di un'identità fratturata e spaccata dal trauma ma che ha un prezzo grandissimo dalle prime scene in cui si vede nello specchio riflesso nello specchio non nello specchio appunto tutta questa comunicazione diciamo la gran parte delle cose tremende che accadono accadono involontariamente perché non ci si accorge che la tele è accesa perché non ci si accorge che il vetro riflette l'immagine e perché lui si rende conto che non è udito mentre gli altri nemmeno pensano che questo stia accadendo e quindi è tutto un gioco di specchi ma di specchi deformanti deformati di ricerca della propria della propria immagine e forse ancora un elemento che trovo bello toccante e che va un po' nella direzione dicevi della complicità è l'elemento dell'ironia che in realtà lo si coglie anche quando manca la complicità sull'ironia quando la giovane donna non è capace di 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 cogliere di ridere sulla situazione e lui ci rivela che per sopportare questa condizione l'ironia è qualcosa di fondamentale anche se di nuovo è un'ironia amara mi fermerai qua poi magari scambiamo ancora beh io non mi sento in grado di esprimermi in ambito medico in neurohumanities proprio non ho competenza non è non è ciò che faccio ciò che a me è piaciuto in questo film è che è pieno zeppo di errori un continuo sbagliare no? e non si vedono si vedono traramente dei film così Schnabel è prima di tutto un artista visivo un pittore si muove sulla sua scena di New York non a caso è lui che ha fatto il film su Pasquiat e quando abbiamo fatto la selezione del film con i miei colleghi della John Eccles non c'è mai stato un vero consenso assoluto su ogni oggetto sono state delle scelte no? e io avevo molti dubbi conoscendo Schnabel e non di persona ma il lavoro l'attitudine e devo dire che ha fatto un gran bel film nel senso che tutto è contrario allo standard cinematografico come già stato detto la scelta di non so forse il primo terzo del film far vedere la narrazione attraverso l'occhio di un personaggio è proprio un'eresia assoluta nel cinema esistono due tre oggetti così c'è un film noir degli anni 60 americano che si chiama Lady in the Lake tutto fatto dal punto di vista di un personaggio a volte ci sono certe scene in certi film dove seguiamo il personaggio attraverso il suo occhio ma è una scelta sempre difficile e devo dire che è molto riuscita c'è una quantità di ripetizioni in questo film che è allucinante la dicitù delle lettere dell'abecedario tutte ricette per una catastrofe e invece il film funziona con momenti deboli come in tutti i film un film non è mai perfetto è così complesso da produrre che è piuttosto è sempre un'opera incompleta un film ci sono un sacco di errori ma credo che ci sono anche dei momenti veramente fortissimi bellissimi e molto commoventi forse il momento che a me ha commosso di più è lo scambio tra Max von Sydow il padre Matteo Malric quindi Bobby von Sydow un attore straordinario e questo mi manchi straziante è fortissimo anche l'amore platonico che si stabilisce tra Bobby e Henriette è bellissimo e penso che il regista Schnabel anche evita l'errore di andare troppo lontano nel nel manifestarsi dell'amore è un film molto erotico nel senso che Bobby guarda comunque le cosce delle donne tenta di intravedere la nascita del seno cioè non dimentichiamo che un uomo di un po' più di 40 anni quindi nell'apice della sua vita però lo fa sempre con un certo pudore e trovo che è un film molto pudico in questo senso bene se non è il caso visto anche l'ora appuntamento a domani al Monte Verità allora sapendo che approfondiremo questi temi da punti di vista molto diversi in particolare quello che non abbiamo rappresentato in questo momento per l'assenza l'impossibilità di Claudio Bassetti di raggiungersi e la dimensione anche medica legata a questo aspetto questo punto di questo sguardo che va a completare quello che è lo spettro degli apporti che possiamo dare sulle neurohumanity quindi buona serata buonanotte e speriamo di vederci domattina al Monte Verità a tutti e assieme a tutte le altre persone che ci raggiungeranno grazie e buonasera buon rientro